Benvenuti in questo nuovo video oggi giocheremo a Brawl Stars però mi raccomando prima di iniziare attivate la campanellina e lasciate un bellissimo like a questo video entro mezzanotte e 500 like ragazzi iniziamo subito mamma ragazzi ragazzi iniziamo ragazzi qui c'è Frank Frank ragazzi ho sbagliato per un pelo giocato ragazzi ragazzi abbiamo perso non è ancora detto però credo proprio di sì ragazzi non si può dubitare ragazzi non si può dubitare credo proprio di sì abbiamo perso ma credo Alex vuoi segnare sì Alex segna perfetto ragazzi non stiamo affatto perdendo non stiamo perdendo affatto ragazzi qui c'è Frank un po' distrattivo non so come fare ragazzi no ragazzi 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 per un po' ragazzi comunque facciamo subito un'altra ragazzi qui lo dobbiamo stracciare però ragazzi stanno parola ma non è più buono che ti sbuono però non è così niente ragazzi c'è uno è il primo ragazzi distruggiamoli provo a segnare ragazzi ragazzi no per pochissimo ragazzi peccato ragazzi per pochissimo per pochissimo per pochissimo ragazzi non è possibile fa un po' male non si può dire che non fa male tiè ragazzi qui abbiamo un mortis che è un pro ragazzi forse vado a segnare vado no ragazzi perché faccio queste cose ragazzi 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 non si può perdere non si può perdere questa partita ragazzi ragazzi non può essere persa ragazzi la prendo no ragazzi ma perché faccio queste cose peccato ragazzi no ragazzi è gol ragazzi abbiamo perso ma ragazzi ragazzi questo video finisce qui e alla prossima ciao 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 ciao